amici di italiano questa è la lezione 290 e in questa lezione andiamo a parlare per la quinta volta andiamo a parlare di gesti italiani abbiamo già fatto quattro lezioni sui gesti abbiamo parlato di diversi gesti circa una decina di gesti per lezione anche in questa lezione ci saranno circa dieci gesti nuovi e alcuni abbastanza noti alcuni un po più particolari un po più diciamo difficili un po più di micchia e partiamo subito ci saranno credo ecco ci saranno ancora credo 4 5 lezioni dopo queste di gesti ci saranno alle circa un centinaio di gesti italiani da scoprire insieme insomma qualcuno abbia già visto qualcuno lo vedremo andiamo subito e vediamo la lezione ecco meno male che mi sono messo la nota ricordarsi interviste allora la prossima lezione che la 291 inizierà una nuova serie me lo sono segnato dovevo già dirlo alcune puntate fa ma la prossima settimana inizierà una nuova serie di italiano per tutti dove andrò a intervistare degli amici ognuno con la sua professionalità ognuno con la sua esperienza di vita e sarà molto carina perché parleremo con altri ascolteremo le loro opinioni 10 15 minuti di intervista quindi la prossima lezione è importante a questo punto partiamo con la slide sui gesti che dice tutti sanno che la gestualità ha un ruolo molto importante nella comunicazione italiana gli italiani sono abituati ad accompagnare un discorso o una conversazione con i movimenti delle mani soprattutto nella comunicazione informale con gli amici alcuni gesti in particolare hanno assunto un significato così chiaro ed esplicito che bastano da soli a inviare il messaggio anche senza l'uso delle parole quasi tutti insomma chi è italiano si capisce ogni tanto serve magari accompagnarlo con le parole o viene comunque lo stimolo di accompagnarlo con le parole perché il gesto enfatizza la parola e la parola a suo modo enfatizza il gesto alcuni gesti sono presenti anche nel linguaggio di altri popoli tanti con un identico significato oppure con un significato totalmente diverso altri sono usati e compresi solo dagli italiani continuiamo il nostro viaggio nella gestualità primo gesto e abbiamo sempre il mio socio qui che va a ecco a fare il suo gesto che il cui significato è ma figurati non ci credo ma figurati non ci credo ok la mano portata in questo modo è per dire guarda lascia stare questa è una roba che mi stai raccontando tu ma figurati non ci credo è un po' un gesto per mandarlo via in qualche modo è un po' per un po' per allontanarlo ecco per per dare l'idea che questa è una stupidaggine ok io mi muovo molto quando parlo con voi muovo molto le mani mi piace mi piace perché mi sembra di essere più in contatto e quando parlo con gli amici lo stesso quindi se un se so che qualcuno mi sta raccontando qualcosa che non è vero o mi sta riportando qualcosa che non è vero un evento un fatto una situazione il gesto unico che si può che può esprimere in modo diciamo non volgare ma semplice e diretto è questo figurati non ci credo ma figurati non ci credo e andiamo al secondo gesto che ci sentiamo ti chiamo ecco questo è un gesto che secondo me è inequivocabile tutte le nazioni e tutte le lingue da quando è stato inventato il telefono è ci sentiamo ti chiamo questo è il gesto della cornetta quindi quando metto questo alla alla bocca e all'orecchio significa che o ti chiamo quindi ci sentiamo perché ti chiamo guarda e ti chiamo ok oppure perché devo comunicare a qualcun altro che sto chiamando sono al telefono in una situazione particolare oppure sto per aspettare una telefonata o comunque qualcosa che è riferito e riguardante a una chiamata telefonica questa è la chiamata telefonica soprattutto se portata se portata alla bocca quindi le situazioni dei gesti sono sempre da contestualizzare nell'evento nel fatto che sta accadendo io vi ripeto sempre il gesto me lo immagino sempre quando c'è una parete di vetro e non ci si riesce a capire dalla parte opposta quindi non riesco a sentire con l'orecchio cosa mi stanno dicendo dalla parte opposta il gesto che posso fare dall'altra parte quindi per comunicare a qualcuno senza poter parlare è ti chiamo non preoccuparti ci sentiamo questo è l'esempio ho compresi tutti gli altri tutti gli altri gesti ovviamente e il prossimo che si può vedere scordatelo non pensarci più quindi il nostro socio in questo momento ci sta facendo la croce quando si fa la croce sopra qualcosa è perché quella cosa non si realizza o non si trova più guarda ho perso quel portachiavi che mi aveva regalato mia zia non lo trovo più io molto spesso ho perso adesso a parte il portachiavi ma molto spesso ho perso degli oggetti mi ricordo un auricolare per cellulare che l'ho perso non l'ho mai più trovato scordatelo quindi mi è stato detto in quel momento da un amico a cui ho chiesto perché ero stato con lui mi è stato detto scordatelo quel auricolare se l'ha trovato qualcuno per terra non lo trovi mai più se l'hai perso per terra per strada quindi scordatelo quindi al gesto per dire benedisci quell'oggetto quella situazione quel fatto perché non succede e non pensarci più o non lo troverai più e il prossimo gesto è siamo d'accordo questo è il gesto di intesa di complicità quando qualcuno mi vuole comunicare magari in modo un po di nascosto un po segreto mi vuole dire io e te siamo d'accordo quindi guardami perché c'è quell'istante in cui io ti schiaccio l'occhio quando ti schiaccio l'occhio a un'altra persona vuol dire che tu io e te siamo d'accordo c'è un'intesa fra di noi c'è una complicità alle volte segreta è un po diciamo simpatico come gesto non c'è mai questa diciamo segretezza in realtà perché ovviamente ci si può far scorgere dagli altri ci si può far vedere che uno sta strizzando l'occhio e quello significa questi stanno combinando la grossa però è un modo simpatico per dire un'altra persona anche per enfatizzare il rapporto che si ha con un'altra persona dire siamo d'accordo una bella cosa questa hai avuto una grandissima idea siamo d'accordo ovviamente in questo caso ho messo anche il pollice però ovviamente è un modo per dare ancora più enfasi a quello che è il mio messaggio che voglio mandare all'altra persona ovviamente e questa è un'altra intesa un'altra complicità che è ci siamo capiti è questo dito ecco questo è uno dei gesti che è un po più diciamo difficile da trovare in altre situazioni o in altre secondo me in altre lingue in altre nazioni è tipico italiano si usa poco però questo gesto vuole dire è in diciamo comunica l'intesa con l'interlocutore quindi se vado a dire ci siamo capiti ok guardami ci siamo capiti questo dito tagliato sulla faccia laterale è un gesto un po di questo rapporto questa è un po più forse una domanda non tanto una conferma quindi voglio vedere voglio che mi sia confermato se ci siamo capiti se la persona ha capito le mie intenzioni o ha capito la mia domanda o ha capito quello che intendo è un gesto di complicità comunque un gesto di intesa come l'altro abbastanza simile poi abbiamo il ci siamo capiti e inteso ecco questo è un altro gesto di intesa di complicità però si fa con l'occhio quindi vado a guardami ok hai inteso quindi quello di mostrare l'occhio e mettere il dito sotto l'occhio significa in qualche modo hai capito cosa ti sto dicendo ti mostro l'occhio e è un po' come tenere sotto controllo la persona opposta quindi mostrare l'occhio significa io ti vedo io so se hai capito io riesco percepire se hai capito le mie intenzioni quindi noi ci siamo capiti guarda al mio occhio ci siamo capiti ha inteso questo è un modo di di creare un rapporto e un legame anche con l'altra persona nelle intenzioni e nelle intese e poi ce n'è un altro con ecco non è questo quello dopo probabilmente questo è non lo dirò a nessuno questo è famoso questo è noto abbastanza penso che tutti lo capiscano senza doverlo spiegare non lo dirò a nessuno e questo dito queste due dita questa mano che si muovono sulla bocca creano quasi una chiusura a zip sulla bocca e quindi la mia bocca rimane chiusa guarda ti sto dicendo questa cosa però mi raccomando è perché è una cosa che non sa nessuno è quindi a sì a guarda non lo dirò nessuno quindi mi chiudo la bocca e sarò molto come un pesce non lo dirò a nessuno e questo è il gesto appunto per dire la mia bocca rimarrà cucita la mia bocca rimarrà chiusa sarò molto come un pesce ok questo è un modo di dire però è per descrivere per enfatizzare il fatto che la persona con cui sto parlando mi conferma che non dirà questo fatto a nessuno e qui abbiamo attento ecco questo è l'altro con l'occhio e che è quasi simile all'altro però è più diretto è più cattivo perché io tu vedi qui i miei occhi tu li vedi allora guarda i miei occhi io ti sto controllando li punto verso i tuoi quindi i miei occhi vedono i tuoi e ti controllo quindi attento perché ti controllo questo si fa con i bambini ad esempio no quando si vuole essere un po decisi o con degli amici ovviamente non sono mai comunque dei gesti aggressivi sono accompagnati a un discorso di amicizia familiare di relazioni molto spesso per enfatizzare quello che si sta dicendo quindi io sto parlando con un amico che ho con un allievo con un bambino che non sta facendo il suo compito che non sta facendo quello che io ho chiesto e che non è partecipe in qualche modo a quello che sono i miei discorsi che sto facendogli e quindi il gesto più rapido e più immediato che posso dire oh guarda mi stai guardando mi stai guardando negli occhi ok guarda che ti controllo è e questo è un po di avvertimento è un po di attenzione di catturare l'attenzione della persona in modo leggermente diciamo aggressivo ma ma non cattivo è un avvertimento poi credo che ne abbiamo ancora uno che è contrarietà e questo è molto simile al primo che avevamo ma mi hai stancato vai via ecco questo è il modo deciso con il braccio più lungo di quello prima quello di prima era ma sì ma lascia stare ma non ci sto ma non ci credo invece questo è più lungo il braccio più lontano mi hai stancato ma vai via infatti adesso il braccio mi arriva perfino in camera quindi ma vai via mi hai stancato questo è proprio un gesto di mandare via questo è più deciso questo è un gesto quasi un po più di contrarietà di cattiveria cioè quando una persona proprio ci sta sullo stomaco ok quando si avvicina qualcuno e ci dice una sciocchezza perché è solito è noto dire sciocchezze a quella persona per allontanarla per respingerla e per dimostrare che non siamo d'accordo con quello che fanno con quello che dicono si dice ma vai via vai su o si può fare anche con due mani ma vai via su solitamente con una ma si può fare anche con due mani sicuro questo è un gesto vedete che poi dipende anche dallo sguardo perché in questo caso lo sguardo non è sorridente come in altri gesti è un po più deciso un po più diciamo severo contrarietà e forse questo è l'ultimo che è quello di disapprovazione quindi è molto simile a quello di prima però ha una una tendenza al mantenere la distanza più che più che la disapprovazione stessa quando si avvicina una persona questo è il periodo giusto ok quindi immaginiamo che siamo per strada e incontriamo un amico l'amico non ha la mascherina perché questo è il periodo delle mascherine è stato il periodo delle mascherine e quindi si è dovuto tenere la mascherina per tanto tempo per i problemi di salute quindi la persona che mi sta davanti se voglio allontanarla gli dico manteniamo le distanze stai lontano ok quindi spingere con le mani in questo modo significa dare limitare l'avvicinarsi della persona quindi manteniamo le distanze se anche lui allungasse le mani avremo la distanza giusta per essere in sicurezza chiamiamo così però ovviamente non è un discorso sempre legato alle distanze fisiche è anche un discorso legato alle distanze diciamo di comprensione quindi quando una persona si avvicina in qualche modo e ci vuole convincere in qualche modo delle sue idee ed è molto insistente e non riusciamo a mandarlo via o a farci capire il gesto più rapido è di ascolta tu stai lì e stai nel tuo ufficio stai nella tua stanza fai le tue cose e io sto qui quindi manteniamo le distanze e io disapprovo quello che tu mi stai proponendo e questo credo che fosse l'ultimo gesto di oggi ok è stata una serie di una decina di gesti abbiamo visto dei nuovi gesti italiani come vi dicevo alcuni sono più semplici alcuni un po meno semplici un pochino più elaborati e laboriosi da anche da capire 290 lezioni abbiamo fatto già fino ad oggi quindi se volete andare a vedere l'italiano per tutti nelle 289 seguite il nostro canale attivate le notifiche che avete qui sotto e tutti i sabati intorno alle 5 più o meno ora italiana avrete un nuovo video di italiano per tutti itapertutti.blogspot.com siamo su tutti i social e ci vediamo la prossima lezione con la prima intervista di una lunga serie di interviste che faremo ad amici eccetera eccetera per scoprire come si dialoga in italiano in modo semplice in modo naturale ci saranno accenti italiani diverse di ragazzi e di ragazze di persone uomini e donne e affronteremo diciamo questo percorso insieme con altri amici sarà la prima volta che in realtà in italiano per tutti entrerà una persona diversa da me e dai miei fratelli gemelli dei miei soci che mi hanno sempre aiutato fino ad oggi ci vediamo nella prossima lezione di italiano per tutti ciao ciao